Cosa sta succedendo a Bitcoin? Cosa sta facendo il re del cripto? Ha iniziato una fase di ribasso che potrà continuare anche nell'arco dei prossimi mesi e quindi siamo in una fase di grande pericolo che potrebbe vedere di nuovo le quotazioni di Bitcoin scendere intorno ai 6.000 dollari oppure questa correzione salutare è attesa ed è tutto sommato anche un modo di ricaricare le batterie per ritornare al famoso test di quota 10.000 dollari ragazzi questi 10.000 dollari non ci lasciano in pace ho fatto il video la scorsa settimana per farvi capire quanto è complesso quel livello di resistenza ma parliamo appunto di Bitcoin arrivato a giugno di nuovo come lo scorso anno lo stesso mese era iniziata poi una fase di ribasso che ha visto il mercato criptovalute toccare un minimo a dicembre ma poi il peggiore di tutti quello a marzo dopo il Covid siamo nella stessa situazione questo è quello che cerchiamo di controllare di andare a vedere di capire in questo video di oggi ragazzi quindi guardiamo Bitcoin l'analisi ciclica quello che ci dice ho fatto un'analisi molto diversa rispetto al solito perché sono andato a considerare quelli che sono i cicli maggiori di Bitcoin non il mensile che è un ciclo adatto per chi fa trading ma magari poco utile per chi vuole stare in posizione qualche anno ragazzi perché in realtà il ciclo mensile è un ciclo da trader andiamo quindi a guardare i cicli un po' maggiori semplicemente una taglia sopra io la definirei così per vedere un po' di mettere i puntini sulle i in questa situazione e capire se è effettivamente una fase di inizio ribasso e quali sono i livelli che potrebbero metterci in allarme oppure se ancora siamo in una fase positiva che dal mio punto di vista ragazzi potrebbe essere ancora accettabile comunque ho dietro di me già il grafico e prima di andare vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatevi questo pollicione che vi aiutate con il video con YouTube ragazzi poi voglio sapere un po' anche quello che state facendo nei commenti vi aggiorno anche sul fatto che probabilmente parlerò dei mercati americani a brevissimo sto unendo una serie di puntini anche lì perché ci sono delle riflessioni da fare sono ancora positivo comunque sulle borse che sia chiaro nella mia view generale ma ne parleremo in settimana quindi iscrivetevi se volete anche aggiornamenti sulla quotazione dei mercati americani va bene ragazzi allora subito all'analisi ciclica di Bitcoin dietro le mie spalle eccoci qui allora ragazzi quello che vedete qui in questo momento è una fase ciclica completamente rivista relativamente a Bitcoin perché sono andato a considerare i cicli più grandi intanto vi ingrandisco immediatamente il grafico per farvi capire quello di cui sto parlando sono andato a prendere i cicli di questo tipo ragazzi vedete questi cicli qui che sono stati per esempio nel precedente ciclo annuale che andava da dicembre 2018 a probabilmente ormai marzo ragazzi ancora c'è un po' di indecisione in realtà ragazzi ma è veramente passato tanto tempo secondo me potremmo considerare marzo come la scadenza del ciclo annuale anche se non è proprio del tutto considerabile diciamo veritiera questa cosa perché il mercato non ha superato i massimi che aveva fatto a febbraio perciò ragazzi ancora siamo in un limbo però al di là di questo ci interessa poco adesso questo discorso io al momento lo sto considerando come marzo la parte di chiusura del ciclo annuale di Bitcoin quindi sono andato a considerare come vedete gli unioni di più cicli mensili di solito 3 o 4 cicli mensili quello che vediamo in questo momento su Bitcoin è sembrerebbe una struttura ciclica ternaria che unisce tutti questi mensili ragazzi che vedete qui che li abbiamo fatti li abbiamo analizzati in tutti questi giorni in questi mesi passati e ci indica appunto l'ultimo che in effetti vi avevo già accennato essere in atto la scorsa settimana vedete ci indica l'ultimo in fase di chiusura ora se fosse questo una visione ciclica che poi Bitcoin potrebbe andare effettivamente a delineare questa fase di ribasso non dovrebbe essere preoccupante e qui interviene appunto la risposta la mia risposta a quella che effettivamente era la domanda iniziale di questo video cioè questa fase di ribasso è preoccupante al momento no al momento no perché ciclicamente rientra alla perfezione con la view del ciclo ternario che vi sto facendo vedere ma anche con quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane dove abbiamo sostanzialmente evidenziato che questa fase di ribasso era un po' attesa per questi giorni di giugno ma in questo video aggiungo anche un'altra informazione probabilmente ragazzi questa fase di ribasso non è ancora terminata e se questa view è vera vedete questo minimo che è a 8600 cioè più o meno il minimo da cui è partito diciamo questo mensile il 25 maggio che dovrebbe essere 8600 questa fase qui potrebbe tecnicamente essere un punto di arrivo ma anche di break di bitcoin cioè se questo ciclo iniziato qui se è vera questa ipotesi ma io penso di sì ragazzi il mercato con l'andamento degli ultimi giorni sembra aver preso una sua direzionalità quindi se è vera questa cosa probabilmente ragazzi ancora un po' il mercato può scendere e potrebbe anche andare a rompere gli 8600 nei prossimi giorni questa cosa sarebbe preoccupante no ovviamente ci avvicineremo a quella che è la media mobile a 200 periodi e si riallacciano tutti i miei video anche quello in cui vi ho parlato di questo segnale della media mobile e del fatto che bitcoin è sopra la media mobile già da tanto tempo infatti la vedete che sta iniziando un po' a girare la media mobile a 200 periodi però ancora siamo nella fase rischiosa e il mercato potrebbe decidere di scendere al test di questa media mobile e quindi nulla vieta al mercato di fare un atteggiamento così ragazzi e insomma qui poi si giocherà la partita se dovesse avvenire questo discorso in sostanza questa fase al momento non è preoccupante per quanto riguarda il mercato criptovalute non è preoccupante per quanto riguarda bitcoin ed è una fase di attesa ribassista è finita e questo è un problema ragazzi vi faccio anche capire perché perché non abbiamo dei giorni tali da dire bene questo ciclo mensile da 21 giorni diciamo siamo già al di là è finito ragazzi i precedenti li ha fatti di 34 39 questo che è centrale nulla di strano che vadano oltre i 30 giorni perché sono cicli rialzisti i cicli rialzisti durano di più poi bitcoin è stato in barra di congestione ed è ancora in barra di congestione dal 30 di aprile quindi insomma ragazzi siamo quasi a due mesi di congestione e queste cose allungano i tempi perché il mercato non prende direzionalità non prendendo direzionalità in sostanza perde tempo quindi in pratica i tempi si allungano questa la ciclica è un'analisi sui tempi perciò ragazzi è normale questa cosa ora se il ciclo lo dovessimo considerare come completo io direi che potremmo anche arrivare vedete alla fine del mese di giugno certo non so ragazzi un andamento del genere presuppone una struttura di rimbalzo sicuramente magari da oggi un po' una cosa del genere intendo e magari potrebbe effettivamente essere validata questa figura lo vedremo probabilmente nei prossimi giorni al momento sono sincero tutti tutte le fasi di rimbalzo dovrebbero essere tradate long perché in realtà il mercato ha la tendenza quando soprattutto un trend è forte quindi se dovesse andare a rompere questa resistenza bitcoin deciderà probabilmente di tagliare le fasi di ribasso e quando le taglia fa boom poi rompe tutti si aspettano che arriva giù in realtà non ci va mai e fa così boom e poi se ne va e fa boom ok perché i mercati hanno la tendenza ad anticipare tutte le attese relative di un mercato perciò al di là di quello che è la teoria che in questo momento ci indica che con un massimo fatto in questa prima parte e con una fase così costruita il mercato dovrebbe avere questo atteggiamento e quindi ancora laterale di bassista nei prossimi giorni ma sono sincero io traderò a rialzo eventuali break di queste trendline adesso l'ho disegnata un po' sporca chiaramente ragazzi la trendline non si disegnano così vicine al grafico lo spiego nei miei corsi ci sono delle tecniche per validarle in maniera corretta e insomma ragazzi partendo da qui io ho un eventuale break di questa trendline ho uno dei miei sistemi che mi entra a long che tra l'altro è in drawdown perché ha fatto tre operazioni in loss piccolissimo però l'ha fatti ragazzi perché non funziona durante le barre di congestione allora le traderò al rialzo perché sono ancora dell'idea che questa fase di correzione non è una fase pericolosa del tutto diverso sarebbe un andamento di bitcoin al di sotto di alcuni livelli come per esempio questi qui questa zona qui cioè quella di media mobile e supporto di medio periodo a 8000 a quel punto ragazzi cambierebbe radicalmente questa view e sarebbe messa in stand by non dico che dopo una rottura del supporto a medio periodo di 8000 il mercato possa andare giù per i prossimi due anni non sto dicendo questo ma sicuramente le mie belle età rialziste avrebbero una bella pausa quindi andrei solo a guardare i miei trading system e userei la statistica e basta ma certamente non andrei a ipotizzare dei segnali wrong così a braccio ecco più semplici più da tentativi perciò ragazzi questo livello di supporto io lo tengo in forte considerazione soprattutto per chiusure della grafico daily e settimanali al di sotto della media a 200 periodi che come sapete mi lancerebbe un campanello d'allarme perché mi ricorderebbe un po' questa situazione qui anche quella del 2015 ve l'ho fatta vedere nel precedente video cioè quelle che sono le altcoin ragazzi le altcoin stanno avendo un bellissimo trend in questo momento mi piacciono tanto ho fatto diversi video e continueremo questa settimana ad aggiornare alcuni dei miei indicatori che vi avevo indicato nei video delle scorse settimane di tenerli sott'occhio per l'andamento delle altcoin mi piace questa cosa sono sincero per una serie di punti di vista che ci vorrebbero tre giorni a dirveli tutti allora Ethereum qui davanti a me questo è un ciclo bello di Ethereum ragazzi un trend delineato da un punto di vista di fase anche su Ethereum che fa di solito cicli come Bitcoin ragazzi quindi fa vedete dei cicli in sostanza simili 130 120 130 insomma questa fase qui andrebbe considerata con questo minimo come un minimo di chiusura del ciclo annuale ancora una volta un po' più lunghetta relativamente ad Ethereum e dovremmo essere intorno magari ai 200 circa periodi quindi portarci a un ciclo lungo verso settembre ma le fasi interne vedete indicherebbero questo come un ciclo di natura mediana quindi di una parte a metà in sostanza e quindi saremmo in dirittura di arrivo anche qui verso fine mese di giugno con un ciclo da 110 120 o qui l'ho disegnato a 104 ma l'allunghiamo un pochettino arriviamo ai pieni di luglio ci arriva insomma ragazzi quindi non è rilevante è una fase sapete che non mi interessa il giorno preciso non è quello il senso della cosa e serve a indicarci che questa fase di ribasso tutto sommato è accettabile e tra l'altro non è neanche tanto pericolosa perché il ribasso in questione non ha fatto molti molti minimi quindi andiamo a vedere invece i livelli di supporto livelli di supporto in questo momento di ethereum è 200 oltre al suo livello che vedete qui che ha fatto già da resistenza che è da supporto che è di 220 mixato alla famosa media mobile a 50 periodi che ha retto in questo momento nulla vieta ad ethereum di continuare la sua fase di correzione anche lui insieme a bitcoin e di fare in sostanza una cosa del genere per andare magari a riposizionarsi qui verso fine mese di giugno se anche ethereum iniziasse a fare un bel up su io ragazzi perché no lo utilizzerei ancora una volta anche in questo caso per un tentativo di andare long perché perché potrebbe semplicemente andare a continuare questo suo trend che sta delineando già da un po' vedete che è un trend molto bello potrebbe tranquillamente continuarlo ed andare poi a farci un break per andare al test famoso della resistenza a 285 dollari e ragazzi per oggi è tutto abbiamo visto quello che sta succedendo a bitcoin vi ho detto tutto quello che penso fatevi sapere invece cosa ne pensate voi di queste analisi come state utilizzando questa fase state accumulando bitcoin oppure siete in preda un po' al panico un po' alla titubanza va bene allora noi ci rivediamo in settimana con una serie di video domani sarò live da Filippo Angeloni mattinata parleremo di formazione di trading supporti e resistenze ragazzi belli freschi perché anche sta arrivando l'estate fa troppo caldo quindi ok va bene vi voglio attivi ciao a tutti e buon inizio settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti